di elementi che poi diventeranno quelli importanti fino alla fine. Signori, ed eccolo, colui che ci ha fatto e ci ha permesso di vivere un momento lunghissimo di adrenalina. Dal nulla spunta lui, un anonimo ibrido cucciolo, chiamiamolo cucciolo, un meticcio, che guardate come va in carreggiata, insegue la macchina, corre come un matto. La cosa è incredibile, e ve lo ripeto, con tante problematiche di sicurezza, le moto, i ciclisti, ma il cane non ne vuol sapere di uscire dalla scia. Ed è a questo punto l'eroe della giornata, perché tira il gruppo. Noi abbiamo delle immagini che non sono continue, perché abbiamo dovuto fare una bella schermatura, ma ha corso per oltre un chilometro e mezzo a questa andatura, ha superato i 40 chilometri orari e guardate non ne vuol sapere di uscire, adesso è in mezzo alla polstrada. Ripeto, questo è un momento molto delicato, con tanti rischi per tutti, ma lui, la sua corsa è spettacolare, le orecchie al vento, tirate in modo aerodinamico, salza ancora la frequenza della sua corsa spettacolare, il suo primo piano continua, non ha la bava alla bocca. In questo momento aumenta la corsa, giustamente, l'andatura dei corridori. Lui pian piano desiste, ma non molla. Guardate, qualcuno gli avrà fatto qualche gesto incredibile. Ed è importante la capacità dei corridori di rimanere freddi. Ecco, lui in questo momento viene superato dalla carovana dei corridori e tiene ancora il passo, ma desiste. Ed eccoci, dentro la gara, grande momento di quelle cose che non sai da dove viene, ma ti trovi a raccontare. Il gruppo prende le discese, usciamo fuori dalle salite, dalla pendenza, e ci imbucchiamo dentro le curve continue della Palazzuolo Buscemi, che è una strada dai colori incredibili le montagne. Siamo nella zona boschiva.